Riabiamo questa sera, e con piacere mio, sono sicuro anche vostro, di nuovo il professore regista Vito Zagadio, con il quale faremo un breve consuntivo del Costi Blea Film Festival che ha appena concluso la sua ennesima, mi pare venticinquesima, ventiquattro, andiamo per la venticinque. Vito, lo che volevo chiedere, so che come sempre tu hai cercato di fare il possibile, lei è veramente coinvolto a nome di altissimo livello, non nazionale, ma internazionale o mondiale per quanto riguarda il grande cinema, ma mi levo in una curiosità, ma perché è sempre così precaria, complicata, difficile, diciamo così, a rischio la vita di manifestazioni culturali di alto livello come un festival come Costi Blea? Guarda, il problema è la risposta delle istituzioni, chiaramente non ci sono soldi in Italia, non ci sono soldi in Sicilia, non ci sono soldi nei comuni, quindi è la risposta che ti danno, specialmente in questo momento di crisi con il Covid, non ci sono state neanche le tasse turistiche, però non si può vivere soltanto in tassi turistiche, devi mettere a bilancio, devi investire in qualche modo. Questa però è stata la storia del Costi Blea che è iniziata con un piccolo finanziamento alla proloco di Scicli, ma dietro alla proloco di Scicli c'era un grande amico scomparso che è Carmelo Rocca, che era direttore generale del cinema a Roma e amava Donna Lucata e Cavadaliga e Scicli, altrimenti poi abbiamo dovuto ricorrere a parte il momento di Comiso, c'è stato un momento di Comiso in cui il sindaco di Comiso ha creduto nel festival e ha investito… In che anni questo? Parecchi… beh gli anni dal… è nato nel 91, quindi metà degli anni 90, con Pippo insomma il mio amico sindaco e poi il diputato Pippo Di Giacomo che poi è stato, devo dire, un mecenate del festival, dopodiché siamo venuti a Ragusa, adesso siamo tornati a Scicli sempre con grandi difficoltà perché non ci sono soldi, bisognerebbe investire, avere una sicurezza che il festival Costa Iblea che ha dimostrato per 25 anni fosse messa a bilancio, non è mai stata messa a bilancio, quindi ogni anno bisogna ricominciare, poi cambia sindaco, cambia amministrazione ed è veramente una tortura, dico questo con un pochettino di rammarico perché negli ultimi anni, ma soprattutto quest'anno abbiamo fatto un'edizione fantastica, ha detto di tutti e poi se vuoi ti faccio… Ma questo comporta ovviamente il fatto che non si può fare una programmazione efficace e quindi automaticamente se costretto poi solo all'ultimo puoi sapere chi c'è, chi non c'è, chi puoi chiamare, anche perché il tizio chiamato dice va bene io vengo ma… Beh sì, non c'è una data certa, non si può programmare una data certa, non c'è un budget certo e devo dire che la differenza però, prima ti parlavo del Ministero Turismo e Spettacolo allora si chiamava, adesso si chiama Mibat e a livello di Ministero e a livello nazionale hanno creduto nei miei progetti culturali. Il Costa Iblea che è sconosciuto a livello nazionale se vogliamo, però è piaciuto, è piaciuta l'idea, è piaciuta questa idea di valorizzare il territorio ibleo che non è soltanto Montalbano, per citare un tuo libro, è Montalbano, c'è il turismo, c'è il cineturismo ma c'è stato tutto il cinema girato in Val di Noto, è nato da questa idea il mio festival e poi è diventato un festival attento ai giovani filmmaker e un festival attento ai grandi maestri del cinema, quindi come mai poi il Ministero, il Mibat finanzia, anche se con pochi soldi, ma sai oggi avere 12-15 mila Euro per un piccolo festival, come mai invece non c'è la 100 Euro da parte della provincia o del comune, questo mi stupisce un po', pur amando io gli ciclitani ragusani e quindi sono sicuro che a loro l'idea di fare questo festival piace, però dobbiamo stringere i denti e trovare le risorse, per esempio il comune potrebbe aiutare a trovare degli sponsor privati muovendoci sei mesi prima, un anno prima. Però fermate un attimo, devo fare prima una domanda che è proprio ideotica, io non amo fare le domande provocatorie, non lo è anche se può sembrarlo, ma tu che hai fatto ragusa, comiso e cicli come sede dei festival, qual è stato il peggiore interlocutore? No adesso non voglio parlare di peggiore, dico gli anni di comiso sono stati anni ricchi perché c'è stato un investimento, c'era anche un gruppo, c'era il gruppo Graucio Marx, c'era Salvatore Schemba, c'era un gruppo di cinefili che amavano… Ma io sono sicuro che c'è, altrettanto grande anche a Ragusa, altrettanto valido. Sì ma a cicli per esempio c'è Peppe Pullisi che ha fatto, che io ringrazio, che mi ha aiutato e che è uno dei fondatori del Cine Club di cicli, quindi potenzialmente ci dovrebbe essere, però manca una professionalità. Ci vorrebbero una o più amministrazioni illuminate perché niente scude che ci si possa mettere insieme, anzi sarebbe la cosa migliore. Sarebbe il mio sogno che ci fosse, come è avvenuto un anno per il Costa Iblea, peraltro che abbiamo fatto Ragusa, Donna Fugata, Chiaramonte, sì, molto bello quell'anno. Ma prima abbiamo fatto Acate addirittura. C'è stato l'anno con Ebert Ballerina, con i bravi ragazzi, eccetera, eccetera, me lo ricordo, come no? Quindi sarebbe bella una sinergia delle mie due città, Ragusa, la città di mamma, e Scicli che è la città adottiva. Io tra l'altro la scorsa estate, e lo riproporrò perché io sono toro, sono testardo, lo riproporrò all'amministrazione comunale quest'estate, voglio fare il cinema sugli scogli a Cavadalica. L'abbiamo fatto l'anno scorso, bellissimo, con uno schermo sul mare, fantastico, l'abbiamo fatto a costo zero, chi ci ha prestato lo schermo, chi ci ha prestato la luce elettrica, chi ci ha prestato il proiettore. Ora, se a noi avessimo 1000 Euro, si potrebbe fare una cosa… no, si parla di queste cifre che noi non riusciamo ad avere. Mi sembra che al di là dei soldi, che poi tutto sommato non sono molti, e poi volendo, magari ricorrendo aiuti privati, eccetera, si potrebbe anche trovare, soprattutto se ci si mettesse insieme più di un comune, che avrebbero potenzialità enorme per fare rete, ci vorrebbe a mio avviso la convinzione in quello che si fa, cioè il comprendere che il famoso discorso del panino che non si può imbottire con la cultura, non è vero, io sono profondamente convinto, e lo dice uno che visto il fisico di panini purtroppo ne mangia, ne ha mangiati assai, si può imbottire, anzi, credo che sia il miglior modo di imbottire un panino. Ma sai, il cinema, quando parlo cinema parlo di video, parlo di videogame, corti, eccetera, è anche popolare, quindi non è che stiamo proponendo una cultura astrusa, astratta, intellettualoide, del cinema significa agganciare la gente, agganciare il desiderio delle persone, l'immaginario del pubblico, fare sognare di fronte al mare sugli scogli con un film, questo è il cinema, quindi è chiaro che il cinema è alta cultura, ma la cultura è una cultura di profondità, una cultura popolare, non bisogna per forza fare vedere… Io sono innamorato delle arene, figurati. Ma sai, il prossimo anno voglio fare, e sono sicuro di riempire o un'arena o la sala cinematografica, noi avremmo dovuto farlo al Cinema Italia peraltro, io ringrazio anche gli esercenti del Cinema Italia, voglio fare Assicurasi Vergine, che è, per dire il mio desiderio anche di popolarità, Assicurasi Vergine che è il primo film girato a Scicli con Romina Power e sono sicuro che riempiremmo il cinema. Beh, allora, diciamo che questo qui è un, come posso dire, se fossi uno di quelli che conoscono le lingue stranee, direi un ballon d'essè lanciato da qualche parte a chi vuole, a chi dovrebbe intendere e sarebbe meglio che intendesse perché sarebbe un vantaggio per tutti. Andando nella seconda e conclusiva parte di questa chiacchierata, ricordando agli interlocutori che sono le istituzioni locali, che è un vantaggio per tutti perché portano persone, portano cultura, fanno parlare di una certa zona un po' dovunque. Brevemente Vito, il commento su questo, il sunto di questo, come è andato? Il bilancio, tu vuoi il bilancio, non mi veniva la parola, il bilancio. Allora, noi abbiamo dovuto farlo online, abbiamo fatto su piattaforma My Movies come adesso che non ci possiamo guardare negli occhi io e te, ma devo dire che è andato molto bene perché facendolo online hai raggiunto intanto un pubblico che non avremmo raggiunto al Cine d'Italia di Scicli e poi hai potuto avere ospiti che non sarebbero venuti a Scicli per ragioni di età o di opportunità. Faccio qualche esempio, Paolo Taviani, c'è una bellissima intervista che è stata per tutta la settimana a Paolo Taviani, i fratelli Taviani, sapete però Vittorio è morto da poco e quindi Taviani e la Sicilia, una bellissima intervista. Poi abbiamo avuto Roberto Perpignani, montatore di tutti i film di Taviani e di Bertolucci tanto per fare, e di Orson Welles, tanto anche lì intervista, siamo andati a casa sua, l'abbiamo messo online per i suoi 80 anni perché fa 80 anni proprio fra pochi giorni e poi Monio Vadia, scusate se poco, un grande intellettuale, cantante, artista, regista, attore e grande militante per la pace nel mondo, le cose che ha fatto tra palestinesi e israeliani sono molto importanti e poi Paolo Vivaldi, uno dei maggiori compositori di musiche da film, a questi noi abbiamo dato, e poi Loverso, il mio amico Loverso, a questi che ho citato abbiamo dato il Carrubbo d'Oro che mi fa piacere che un po' ironicamente c'è chi ha il Leone d'Oro a Venezia, la Grolla d'Oro, noi abbiamo il Carrubbo d'Oro e l'ha fatto ed è una statua che abbiamo ripreso in mano, abbiamo fatto i calchi di Carmelo Candiano che voglio ringraziare perché ha regalato al Festival questa sua opera e poi i giovani abbiamo dato, ci tengo a ricordarlo, mi sono inventato il premio Guccione Giovani Cinema, quindi abbiamo dato questo premio a una giovane regista, è stata presente anche la figlia di Guccione Paola e quindi l'interesse è anche per i giovani, il nome della giovane regista te lo ricordi? Sì, adesso è il tempo di una sigaretta, credo sia Nicodemi, comunque è il tempo di una sigaretta che era un bel cortometraggio, tra l'altro c'è stata una giuria locale di cinefili critici, tra Iina, Pulisi, Di Martino, Volpino, sono tutti operanti del territorio, quindi vedete c'è un potenziale enorme di gente che ama il cinema e che è interessato al cinema e poi voglio ricordare, tanto per finire, tutta la sezione sul cinema e pittura, due documentari su Polizi, uno sul Ragusano Chessari e altre cose che dicono del mio interesse anche per le contaminazioni delle arti, per le sinergie delle arti, quello che state mandando in onda adesso invece è un quadro di Fernanda Paternò che è una brava pittrice oltre che intellettuale multitasking di Catania che però a casa a San Pieri. Va bene, allora, detto questo ricordando che anche online comunque un festival del genere comporta il ricorre a un mucchio di persone, ognuno per la sua quota parte, io ringrazio Vito e ringrazio tutti coloro che con lui hanno lavorato per permettere la continuità, perché è fondamentale in questi casi cercare di avere meno soluzioni di continuità possibile, sarebbe bello non averne mai, ma comunque non averne il meno possibile e naturalmente con l'augurio che l'invito a coloro che possono, a mio avviso che dovrebbero, comunque che possono dare una mano, aiutare, essere un pilastro sul quale fondare una programmazione, perché quello è il problema, mi auguro che questo invito venga raccolto. Intanto io ringrazio ancora una volta Vito, anche perché… quello che stai facendo tu da anni, perché tu sei tra i maggiori sponsor di questo festival, perché ci credi, ecco, allora quello che stai facendo tu lo dovrebbero fare anche gli altri. Io so che abbiamo offerto un piatto meraviglioso, ecco questo piatto meraviglioso va sviluppato e non, come dire, fatto finire. Resta la mia passione, resta la tua passione per il nostro territorio e per la voglia di fare attraverso il cinema amore per queste zone che noi amiamo tanto. Allora, non è tanto solo mia, anzi è teleplea proprio in generale, ma quello che è fondamentale è che c'è sicuramente da parte di una dell'anima, e poi ricordiamoci anche Pasquale Spato sotto il profilo di, oggi diremmo produttore esecutivo, eccetera, eccetera, perché è un modo di ricordare questa terra, e questa terra proprio col cinema, con la televisione e con tutto quello che è la cultura, ha molto, dico molto, ha avuto molto da dire e secondo me può averne ancora molto altro, quando si, soprattutto si decideranno di mettere da parte alcuni provincialismi, alcune cose e ci si aprirà dicendo che uno magari può sbagliare, ma bisogna, è come i vaccini, sapete, i vaccini tentano, non vanno tutti a buon fine, alcuni sono sbagliati, però alla fine, provando e riprovando, diceva il motto famoso, si può andare davvero lontano, e sono convinto che si possa. Grazie Vito, grazie a voi, grazie Vito e buonasera a tutti.